Garofoli vi propone un'ampia gamma di porte scorrevoli per ogni esigenza architettonica. In questo caso una scorrevole linea esterno muro su barra in acciaio inox. Vetrate scorrevoli di grandi dimensioni per separare due ambienti senza rinunciare a luminosità ed eleganza. Il tipo di vetro può essere scelto tra l'ampia gamma disponibile del catalogo Garofoli. Versioni scorrevoli interno muro. Per guadagnare spazio in ambienti ristretti senza rinunciare al coordinamento e allo stile. Le porte scorrevoli Garofoli arredano anche gli angoli più moderni della casa. Il nuovo sistema di scorrimento può essere inserito direttamente nel cartongesso portando così le ante scorrevoli a filo soffitto. Dove necessario queste porte scorrevoli si possono agganciare direttamente al soffitto tramite il classico sistema Mantovana. Disponibile nelle stesse colorazioni delle collezioni a listino. Grazie per la visione!